Mi trovo a Firenze, vedete alle mie spalle il Tribunale, perché sono qui? Perché è finita da poco la prima udienza per il processo di appello agli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena, Mussari e compagnia che non erano presenti naturalmente in aula, anche perché diciamo che questa era più un'udienza tecnica. Sono col collega Domenico Mugnaini, in effetti era un'udienza tecnica questa? No, diciamo che il processo si è comunque aperto, prima di tutto buongiorno, in realtà è stato stabilito subito il calendario per quanto riguarda le prossime udienze, quindi formalmente il processo si è aperto realmente oggi, anche se dopo il deposito delle memorie, corpose memorie, come ha detto il Presidente del Collegio, Mazzi, da parte delle difese era abbastanza logico il rinvio a una prossima data che poi è stata già fissata per il 23 giugno. Ricordiamo che nel primo processo ci sono stati condannati i vertici. Sì, l'ex Presidente Giuseppe Mussari, l'ex Direttore Generale Antonio Vigni e l'ex Capo Area Finanza Gianluca Baldassarri vennero condannati dal Tribunale di Siena a tre anni e sei mesi di pena e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, un processo che ricordiamo nacque dall'inchiesta su Anton Veneta. Tra l'altro si è anche aperto un altro processo a Milano. Sì, perché subito dopo la conclusione del primo processo a Siena il 14 giugno del 2014, nemmeno un mese dopo tutte le carte relative a Anton Veneta e relative ai derivati di Alexandria e Santorini, vennero direttamente trasferite su a Milano per competenza. E ieri a Milano si è aperta la prima odienza, il processo che poi dovrà decidere come andare avanti. E lì gli imputati sono 16. Oltre a Mussari, Vigni e Baldassarri ci sono anche tutti gli ex responsabili in Italia e della filiale di Londra di Deutsche Bank e di Banca Nomura.